Anche se non ho mai giocato a basket, ho giocato per 12 anni a rugby e un mio amico ha vissuto un'esperienza simile a quella del protagonista, nel senso che era un grandissimo giocatore di rugby che poteva anche aspirare a livelli molto alti e che in una partita quasi inutile contro una squadra di, lo devo dire, non bravi giocatori, si irruppe il legamento crociato. Io ho perso di vista questa persona e non so bene come si sia risolta la situazione, però sono sicuro di una cosa, che i valori che uno sport come rugby può insegnare sicuramente, indipendentemente dai fallimenti o dalle vittorie che questo sport può avere, rimangono dentro. Io volevo sapere se il personaggio, anche se è lei, è stato in qualche modo costruito da questi valori perché io credo che una cosa di attitudine, volontà e fermezza come uno sport sia costruttiva quasi quanto la scuola, quasi quanto le amicizie. Per appunto mi chiedevo quanto siano emersi i valori insegnati da questo sport in questo libro. Allora, è una domanda perfetta visto quella che c'è stata in precedenza, perché più o meno la cosa che ti insegna è questo, cioè proprio l'idea che siccome nello sport, nella vita di qualunque sportivo, anche il più bravo del mondo, statisticamente sono più numerose le sconfitte, sono più numerosi i fallimenti rispetto alle vittorie. Questo di per sé è un grande allenamento alla vita in generale, a subire dei rovesci e delle situazioni complicate. Sono convinto che poi in particolare alcuni sport duri, fisici, però le alia anche come il rugby possano anche insegnarti qualcosa in più, anche proprio sul versante della costruzione di una squadra, di lottare tutti insieme per un certo obiettivo. Il basket sicuramente, essendo uno sport di squadra, permette un tipo di formazione che somiglia a questo, però secondo me c'è da distinguere due piani. Da un lato è questa possibilità di portarsi via qualcosa, di rubare un'anima al tuo sport, di permettere a quest'anima di vivere anche dentro di te, anche dopo che tu hai smesso di giocare. E questo è un conto. Resta però il fatto, resta questo fatto piuttosto drammatico secondo me, è che quella pienezza e quella intensità tu riesci a provarla soltanto lì, in campo. Quindi probabilmente un atteggiamento costruttivo è quello di non dimenticare tutto quello che è successo là e farlo funzionare per altre cose della vita. Detto questo però, quell'energia, quell'ebrezza si prova soltanto lì, in determinate situazioni. Ti dico una cosa che riguarda me, perché è una delle cose che mi sono portato dietro dalla palacanestro. Io quando non capisco qualcosa, capita abbastanza spesso, devo dire, quando qualcuno mi fa un ragionamento complicato, cerco di tradurlo in basket, cerco di tradurlo in palacanestro, perché è un modo anche di vedere le cose. Per cui per esempio quando mi chiedono se nella scrittura è più importante il fatto di frequentare una scuola, ho l'istinto, il talento, e io sulle prime mi smarrisco di fronte a una cosa del genere, perché è una grossa questione, così come tante altre questioni. Poi pensando alla palacanestro mi viene da credere che ci sono tutte e due le cose, c'è il talento, c'è la predisposizione naturale, dopodiché se non ti alleni è abbastanza difficile che arrivi a un certo risultato. E allora per me è diventato anche un modo di pensare le cose e di trovare certe volte delle soluzioni a problemi che sulle prime non riesco bene a mettere a fuoco. Grazie.